ben ritrovati amici di radio rosso nera ci ritroviamo in questo lunedì 17 luglio del 2023 siamo alla metà del mese di luglio siamo già ben avviati verso la prima amichevole che mi giocherà tra pochi giorni a milanello e siamo ben avviati per quanto riguarda il calciomercato oggi stasera in serata arriverà tijani renders direttamente da alcmar dal z di alcmar che finalmente si è deciso a lasciare il buon tijani renders arrivare a milano lo andremo a prendere andremo a vedere quindi arrivare a milano ovviamente come al solito vi rimando agli appuntamenti in serata sui nostri social per tutte quanto riguarda le dirette anche per l'arrivo di tijani renders e poi da martedì con le visite mediche diventerà poi un giocatore del milan in via ufficiale come al solito però ci ritroviamo qui per l'editoriale del lunedì che ha quattro argomenti oggi ve li faccio vedere in rapida successione come sempre per una sorta di piccolo sommario iniziale nasce un nuovo milan la nascita di un di una squadra diversa rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni e soprattutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni soprattutto l'ultimo anno poi andremo a parlare un pochino appunto del buon tijani renders e di dove vederlo in campo come sfruttarlo al meglio come sfruttare le sue qualità anche abbinate quelli che abbiamo già in rosa centrocampo e proveremo a capire chi manca a centrocampo per completare il tassello mette il tassello giusto per il puzzle di centrocampo parleremo di punte e di passaporti di nazionalità extracomunitare che ai noi escludono uno tra taremi e ciò quese e ne parliamo tra poco perché di taremi bisogna dire dire qualcosa di importante perché comunque è un giocatore molto seguito dal milan da almeno una stagione una stagione e mezza e chiuderemo chiuderemo poi con lo stadio allora abbiamo già fatto uno speciale in nel weekend che è uscito venerdì sera con l'avvocato felice rimondo ma siccome ma abbiamo anche altro da da raccontare lato stadio chiuderemo con questo che è un po il il motivo delle ultime quattro stagioni ecco se c'è una cosa che non è cambiata nel milan è che ha cambiato dirigente allenatore sistema di gioco successo o meno del delle ultime quattro stagioni una cosa ci ha sempre accompagnato ovvero lo stadio eh ai noi eh cosa che probabilmente ci accompagnerà ancora per tanto tempo eh ritorno a all'inizio ovvero nasce un nuovo milan parlando anche un po' con eh con chi il milan ultimamente lo fa e lo farà nel nel prossimo futuro facendo anche due chiacchiere a milanello e eh soprattutto il giorno del del raduno del del milan quello che il milan vorrà fare è un po' diverso rispetto al al recente passato eh un milan che vorrà essere soprattutto centrocampo più intenso ancora più intenso forse rispetto a alla scorsa stagione somigliare un pochino di più a quello che era stato il milan di due anni fa o ancora di più il milan di tre anni fa quello che via via soprattutto l'anno scorso si è andato un po' perdendo l'abbiamo perso per strada complice una rosa non particolarmente lunga l'abbiamo perso per strada perché gli impegni sono stati tanti abbiamo perso per strada perché si è deciso di fare qualcosa di diverso rispetto a eh l'anno precedente puntare forse un po' troppo di più eh sui singoli puntando sulle qualità di Raffaeleao su tanta forse di di Sandro Tonali su quelle che sono ma ormai è inutile che mi sto a ripetere sono quelle che le qualità che abbiamo visto l'anno scorso che sono state un po' tirate per i capelli l'anno scorso cercando di andare a spremere un po' troppo quelli che sono i singoli singoli che poi l'abbiamo visto nella seconda parte di campionato soprattutto a metà campo hanno hanno pagato perché insomma tra Tonali, Ben Asser in parte lo stesso Radekrunic qualità ne abbiamo avuta veramente poca soltanto a sprazia soltanto magari dove la partita di grido faceva sì che il singolo calciatore dava qualcosa in più e lo faceva tornare a livello di qualità rispetto a all'anno precedente non possiamo più permetterci di fare un'annata come quella dell'anno scorso dove a un certo punto di qualità ce n'è stata veramente poca io non so se è capitato anche a voi due anni fa ci sedeva davanti alla televisione pensando di vedere anche una bella partita di vedere un milan anzi di farsi sorprendere anche in parte dal dal milan ci sorprendeva che magari dopo una partita un po così così andava a roma e dominava la roma dal punto di vista della qualità ma anche del ritmo un milan che andava in casa dell'Atalanta a dominare lei era un milan che sorprendeva ecco l'anno scorso il milan ha sorpreso poco ci ha sorpreso magari in ottobre novembre quando l'abbiamo visto calare ci ha sorpreso in negativo ma non ci ha più sorpreso in positivo se non in qualche circostanza come quando è andato a stravincere Napoli in campionato come quando in un periodo di grande difficoltà ha tirato fuori delle qualità forse che non li riconoscevamo soprattutto con la sfide con le doppie sfide con il pottenham insomma l'idea del milan è quella di tornare a sorprendersi prima di tutto perché l'anno scorso è sommentrato anche quello a un certo punto dell'anno e di sorprendere di tornare a essere quel bel milan leggero sul campo propositivo molto aggressivo un milan che fa del ritmo la sua qualità principale ma che ovviamente non può e non deve disegnare la qualità non deve disegnare la la ricerca del del bel gioco che viene più che sul palleggio perché il milan anche l'anno prossimo non avrà un centrocampo di palleggiatori ma avrà un centrocampo di giocatori anche fisici anche di ritmo di buona qualità perché l'otto circa una buona qualità e tigiani rendersi tra poco ne parliamo per me è al momento l'acquisto dell'estate poi poi dirà probabilmente tutt'altro questi sono discorsi del 17 luglio ma non ci sono dietro di me gli ombrelloni ma il gran caldo e si fa sentire e forse anche su quello che sto dicendo ma scherzi a parte penso che il buon tigiani renders ci farà divertire e sarà una piacevolissima sorpresa poi penso che andiamo proprio su di lui per sfruttarlo al massimo ci vuole ancora quel qualcosa centrocampo che ancora manca può giocare davanti alla difesa il milan soprattutto nei primi 10 15 giorni di luglio da oggi in poi circa quindi l'ultima parte del ritiro a milanello e la tournée americana testerà e 433 testerà un centrocampo in linea vero testerà un centrocampo con un vertice basso e non un vertice alto poi lo sappiamo i moduli non esistono i sistemi di gioco non esistono insomma è una cosa che con il buon mister bottoni andiamo dicendo ormai da quattro stagioni però è anche inutile negare che il milan nelle ultime stagioni partiva con due giocatori davanti alla difesa due miliani e poi un giocatore davanti a loro che a volte era il centrocampista che si abbassava un po di più aiutava tornava eccetera o la mezza punta che era un pochino più qualitativa tornava sì ma meno ora l'anno prossimo il milan vorrebbe partire con un centrocampo più in linea possibile quindi con un vertice basso due mezzali quindi non due mediani ma due mezzali e vedere un po come va nella fase di precampionato ora tigiani renders è più mezzala che vertice basso non è che se lo metti vertice basso è come metterlo lì di girù ovvio che no è un giocatore che lo sa fare potrebbe anche saperlo fare in maniera ottimale ma al momento in partenza è più un giocatore che vede bene la seconda parte di di campo quella metà campo offensiva che va riempiendo con la sua col suo movimento è un giocatore che si propone tanto va tanto alla conclusione chiede tanto l'uno due per entrare in area di rigore è un giocatore come abbiamo visto anche negli ultimi talk di grande qualità offensiva e metterlo davanti alla difesa potrebbe essere vincente perché davanti alla difesa ci mancherà la qualità di Ismail Benassere ma è non è Ismail Benassere è un altro tipo di centrocampista che comunque davanti alla difesa potrebbe anche trovare un pizzico di fatica proprio perché la fase difensiva che gli verrà richiesta in quella zona di campo non l'ha mai fatta vedere alla Z di Alkmar è un giocatore che a contrasto ci va poco e quando ci va non esce spesso vincitore l'abbiamo visto anche qui con i numeri che abbiamo fatto vedere al talk che li rifaremo vedere in settimana è un giocatore che a contrasto ci va relativamente poco è molto intelligente sugli intercetti quindi molto bravo a leggere il gioco avversario molto bravo a mettersi sulla linea di passaggio avversario a oscurare il passaggio verso l'avversario ma non è un giocatore che ama andare a strappare la palla all'avversario ora se di fianco a lui ci mettiamo da un lato l'off to cheek e lo sappiamo dall'altro un altro giocatore simile magari tg renders potrebbe anche essere impiegato davanti alla difesa altrimenti potrebbe andare incontro a delle difficoltà e soprattutto verrebbe meno quella qualità che li abbiamo riconosciuto vedendo dei video su scout sui dati eccetera mi sembra un giocatore che ha bisogno di toccare tanto la palla di essere sempre nel vivo del gioco e di non essere sprecato a rincorrere l'avversario di non essere sprecato a dover buttare via troppe energie andando spalla spalla con l'avversario dando a rincorrere l'avversario andando a chiudere sul transizione difensiva dell'avversario ora da mezzala io onestamente ce lo vedo molto meglio se si riuscisse ad arrivare il milan c'è ci ha pensato tanto e probabilmente ancora nei suoi pensieri a uno human della situazione copminers ci ha pensato ma anche lì lo può fare ma non è solo lo principe o in generale comunque a un mediano davanti alla difesa che possa permettere al buon rendersi farla mezzala allora sì potremmo vederlo al suo massimo vedremo vedremo nel prossimo futuro come come lo vedrà il mister ma tanto lo vedremo subito poi parliamo di punte parliamo di extracomunitari parliamo di l'ultimo posto rimasto perché morata un po più lontano proprio la questione ingaggio molto elevato e il rischio con molto molto concreto che non si possa sfruttare il decreto crescita e che quindi insomma il suo ingaggio peserebbe quasi il doppio a quel punto sulle incasse del milan e il milan per un 31enne già dall'alto ingaggio non metterebbe una grandissima cifra e l'atletico non sarebbe contentissimo di lasciarlo partire per una cifra bassa cifra bassa che il milan vorrebbe mettere anche su taremi per lo stesso motivo perché ha 31 anni perché un giocatore si di grande rendimento questo sì perché nelle ultime quattro stagioni è sempre andato ampiamente in doppia cifra anzi ha sempre sperato più i versi 20 gol che dieci quindi un giocatore che i suoi gol nel campionato portoghese è vero ma anche in champions league e anche al mondiale i suoi gol li ha sempre saputi fare è una punta di complemento ovviamente non sarà una punta diciamo così decennale del milan non è una punta dove puoi costruire intorno a lui un progetto almeno di cinque anni è una punta come poteva essere olivia girù due anni fa un pronto all'uso un giocatore che ha già tante esperienze internazionali che viene qui al milan per dare una mano inizialmente olivia girù doveva dare una mano un'alternativa a dante rebice a zlatan ibraimovic e poi diventato via via il titolare indiscusso cosa che è sempre stato negli ultimi due anni ma lo stessa cosa dovrebbe valere per taremi viene a dare una mano al via girù e poi chissà dovrebbe magari prendere il suo posto prenderà il suo posto non non lo sappiamo poi le stagioni vanno un po sull'onda di quelle che sono le sensazioni del momento c'è più l'idea in questo momento di dare a lui il posto d'extracomunitario che manca ogni tanto vedo qualche domanda al tolka qualche domanda anche qui sulle sottobre l'editoriale ma se vendiamo a ballo tourè c'è un posto in più ma se vendiamo un altro giocatore c'è un posto in più no ancora una volta lo ripetiamo i posti d'extracomunitario sono soltanto due a fronte uno di una partenza e uno è abbastanza libero ci sono c'è poco diciamo così ci sono pochissimi paletti ma un giocatore come taremi ad esempio quei paletti se li se li mangia non non ha nessun tipo di problema ora essendo due poste uno è andato via per l'ofto c che rimane uno solo soltanto e se dovesse essere individuato taremi per una cifra ben inferiore ai 20 milioni perché il milan per un 31enne di quel tipo sopra i 20 non ci va come non è andato tanto sopra i 20 per renders ha fatto sì che rende se arrivasse il fatto che lui ha rinunciato qualcosa della z acmar e il mio è arrivato a 20 di bonus ma comunque anche per te il milan non andrà sopra i 20 se si riesce a fare qualcosa sopra i 20 allora scusate sotto i 20 allora arriverà taremi ea quel punto ciupese verrebbe escluso e bisognerebbe riconsiderare tutti gli esterni destri comunitari quindi lisa accenditurno che è molto seguito da tanto tempo un pallino di joffrey moncada da almeno un anno e mezzo già dalla scorsa estate che joffrey moncada lo segue parecchio quindi se dovrebbe andare su una prospettiva diversa però sulla punta l'extra comunitaria eccetera lascerei un attimo di riposo non ce lo vedo onestamente taremi che si infiamma nella prossima settimana e sale le scalette metaforiche del dell'aereo per andare a los angeles e giocare la tour netra a los angeles e las vegas proprio perché si porta dietro un fardello doppio cioè extra comunitario ed escluderebbe totalmente ciupese ora se vi la real viene più miti consigli mi sembra che si possa prendere un attimo di respiro e capire bene cosa si voglia fare con il posto d'extra comunitario chiuderei chiuderei con lo stadio perché come abbiamo detto il miran ha acquistato sport life city ovvero la società che poste dei terreni san francesco a san donato e possiede anche parte già dei permessi per costruire quella che in realtà inizialmente era l'idea cioè un palazzetto sportivo dai 15 18 mila posti insomma massimo 20 mila posti ma doveva essere un palazzetto dello sport con tutta la parte commerciale ricreativa eccetera 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 ora il milan si è preso questa società in parte per ovviamente iniziare tutto l'iter che porterà allo stadio uno stadio nei 65 70 mila posti che quindi andrebbe rivedere dovrebbe rivedere tutta la parte di infrastrutture perché come anche anche ricordato il sindaco di medegnano non più tanto di qualche giorno fa andrebbe rivisto tutto il piano di infrastrutture e di viabilità perché è vero sì che c'è l'autostrada di fianco e soprattutto per il naming right è qualcosa di molto positivo perché tutti quelli che insomma arrivano da milano dall'autostrada del sole vedrebbero il milan e vedrebbero lo sponsor del milan sullo stadio così come tutti quelli che arrivano a milano sia col passante che con il frecciarossa dal lato bologna firenze ma anche la parte idriatica insomma tutti quelli che arrivano da sud col frecciarossa vedrebbero lo stadio del milan con il naming right anche in quella caso che porterebbe un grande introito al milan nella seconda parte una volta costruito lo stadio insomma questo l'abbiamo già raccontato in un video speciale che è nato in onda circa un mesetto fa le novità sono che il milan ha preso questa società che con questa società sta già ragionando col comune di san donato in questa fase per la viabilità quindi la prima parte che vorrebbe mettere a posto il milan è la parte della viabilità sistemare gli svincoli autostradali sistemare quella che potrebbe essere la costruzione di una piccola bretella per la tangenziale esterna un po come è la tangenziale esterna est di milano andrebbe costruita anche sulla ovest o comunque l'ultima parte della ovest per togliere il traffico che si congestionerebbe soprattutto nei giorni partita andrebbe costruita anche quella che è lo svincolo vero e proprio del dello stadio insomma si sta ragionando su questo la viabilità e sull'espansione dell'area cioè di andare a prendere alcuni terreni di proprietà e che stanno andando all'asta e che sono confinanti con l'area san francesco uno è completamente confinante verso milano per intenderci poi magari nei prossimi giorni ve lo facciamo vedere anche meglio sulla cartina l'altro invece è poco oltre l'autostrada quindi l'autostrada vedrebbe in due queste zone sia per fare i parcheggi sia idea del milan è quella di spostare il bismara quindi spostare anche gran parte del settore giovanile quello che ovviamente più vicino alla prima squadra la primavera gli allievi e quant'altro lì direttamente fare una piccola cittadella dello sport del milan che comprenderebbe la sede il museo lo stadio e il settore giovanile quindi fare tutto quello che riguarda il milan in quella zona più la parte commerciale ovviamente e quant'altro e farebbe rivivere con la zona di san donato che in questo momento anche particolarmente degradata non particolarmente abitata anche al di là di quello che insomma la parte del dell'opposizione del comune di san donato vuol far passare ma ci sono stati persone già più di una volta ed è una zona che comunque io personalmente ma chi anche di milano conosce perfettamente non è né abitata né splende per servizi ora è una zona a verde sì ma limitato perché comunque probabilmente ci sono più alberi in questo momento dietro di me che in quella zona che è un grosso pratone che in inverno diventa anche un po' quitrinoso e d'estate è semplicemente una distesa d'erba verde capite bene che anche la il comune non lo vuole dire esplicitamente ma vede di buon occhio eh la costruzione di uno stadio chiudo dicendo che la zona di Valle Puglia che era uscita di Milano questa eh è un altro estremo tentativo del comune di Milano di provare a cadere un po' più in piedi di quello che sta realmente cadendo e provando a offrire una zona che si conterrebbe a malapena lo stadio ma non avrebbe nessun tipo di vantaggio proprio perché zona commerciale lì non se ne potrebbe fare niente io sono in chiusura eh ci ritroviamo direttamente alle 10 con obbligo di riscatto poi tutto l'appuntamento tutto l'appuntamento i classici del lunedì di la del rossonera come detto obbligo delle 10 lanci delle treci il tolc delle 16 chiuderemo in serata con filo rossonero e spero con la stanza di bottoni perché se per caso deve essere essere in concomitanza con l'arrivo di tigiani renders ahimè la priorità tra all'olandese grazie a tutti per essere stato qui con noi mettete like in chiusura se vi è piaciuto il video ci rivediamo tra poco tra poche ore e in obbligo di riscatto